Stamattina io e Roberto abbiamo fatto la spesa, è un gesto che dura pochi minuti. Il sacchetto di plastica che avremmo usato per la spesa sarebbe durato nell'ambiente più di 200 anni per biodegradarsi. Dal 2011 i sacchetti di plastica sono proibiti, quindi utilizziamo sacchetti compostabili per fare la spesa, utilizziamo sacchetti di carta o utilizziamo sacchetti di stoffa, così aiuteremo l'ambiente e non andremo a compromettere la qualità dell'ambiente e quindi a rovinare l'ambiente che ogni giorno noi stiamo vivendo. Dagli anni 50 sono stati prodotte oltre 8 miliardi di tonnellate di plastica, che è pari al peso di 47 milioni di balene blu. Oggi si celebra la giornata mondiale della spesa senza sacchetti di plastica, giornata mondiale che è stata istituita nel 2009. Fate anche voi come noi, fate la spesa usando sacchetti compostabili, quindi di stoffa o di carta. L'ambiente vi ringrazierà.